Da Moscardelli a Moscardelli era stato proprio lui a regalare tre punti all'Arezzo sei mesi fa in quella che era rimasta l'ultima vittoria al comunale 1 a 0 alla Pistoiese datata 27 marzo e ancora a Mosca gola rompere l'incantesimo durato sette sconfitte consecutive ed a indirizzare con uno dei suoi super gol la gara con il Ponte d'Era nei binari giusti dopo due traverse. E' un avversario ben messo in campo il gol nella ripresa di Varga ha dato maggiore tranquillità prima dei patemi finali per il gol di Pesenti a tempo scaduto di certo oltre ad una classifica dal sapore diverso la squadra sembra essersi ritrovata merito di Pavanel del suo approccio del buonsenso del suo 3-5-2 in grado di rivitalizzare tutti vecchia guardia e di nuovi Di Nardo, Talarico, Varga tutti altri giocatori rispetto alle prime giornate e domenica l'Arezzo arriva al derby nel migliore dei modi. Sì, è arrivata, sono contento che possiamo lavorare tranquilli che è un'altra vittoria per stare sereni, per lavorare ancora per le prossime partite, per fare ancora bene. Siamo più coperti dietro, possiamo andare più forti sui uomini, per me sinceramente è meglio giocare a tre però questo lascio decisione al mister che decide lui come scendiamo in campo. Soprattutto sono contento per il mio primo gol nei professionisti e da una grande fiducia per lavorare ancora e per migliorare.